Abbiamo il capo boss, super boss, con l'armageddon che ho dipinto e costruito e allestito io. Io sono in test con la Black Snow Dragon Stella Rossa e ho delle cose da sistemare perché oggi è stata una giornata no. L'ho anche abbattuto da sotto un truciclo e quasi spacco la leva in carbonio e ho strappato il nastro della piega. Per fortuna che il nastro era uno super economico e lo avanti era in vita, perciò era lì in prova. Era anche troppo corto, era giusto per vedere se il colore azzurro andava. Adesso sono qua sulla ciclabile lungo il fiume che dopo si intrasforma in laghetto. che c'è un parto pedonale e adesso in mezzo alla natura guardate che bella ciclavia. E' un'attività curata anche, guarda che bella. E adesso ci giriamo probabilmente e torniamo indietro. Ma non lo vediamo, adesso vediamo perché è un'incognita. Problemi, il solito problema, nessun problema a livello strutturale della bici a livello costruttivo, l'unico problema è sempre con insensia, che bisogna prendere, e che insensia sono un po' più di lusrami probabilmente, non lo so, e comunque bisogna prendere, bisogna fare attenzione ai trankset, alla corona del trankset. Perché? Adesso vediamo di non finire nel fiume, vediamo se c'è la frodo e finita la strada. Sì. Ma perché è la fatbike? Perché è la fatbike, Gala. Puoi migiolare ma. Va bene. Se potrebbe andare avanti, ma la moglie ha paura con la fatbike. Non può migiolare ma. Perciò vediamo. E... andiamo avanti dai. Andiamo un pesettino, semmai andiamo su al ponte e torniamo indietro perché bisogna anche tornare a casa. Andiamo. Io ho trovato la strada più difficile, io ho trovato quella più facile, ma ci sono riuscite. Adesso però non so perché non c'ho troppo qua, e sono altino. Sono in versione, infatti non ce l'ho fatta.